Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove ci sono rallentamenti per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in A1 è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Spostandoci sulla FIPPILI, rampa di accesso chiusa per lavori in entrata Livorno Porto in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia in direzione Sud, uscita chiusa per lavori a Rosignano Marittimo e svincolo chiuso sempre per lavori a Gavorrano. Sulla statale 3 Bistiverina, tratto chiuso per lavori tra Pieve Santo Stefano Sud e Madonnuccia Poggiolino in direzione del raccordo Viterbo Terni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!